Per l'ultima puntata di Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso, saranno i medici del reparto di oculistica a mostrarci quello che avviene nei presidi di Fano, Pesaro e Muraglia, le nuove tecniche chirurgiche e come sono stati capaci in 24 mesi di abbattere le liste d'attesa per gli interventi di cataratta. Nella puntata di Missione Salute di domani parleremo della chirurgia di eccellenza che si fa su Marche Nord, dei volumi di questa chirurgia, della chirurgia vitroretinica, della chirurgia dei trapianti di cornea e di tutta la chirurgia complessivamente. Inoltre vorrei illustrare come è il nostro assetto all'interno di Marche Nord in ambito oculistico, oltre anche a illustrare alcuni percorsi collegati alla retinopatia diabetica. Come sempre nella seconda parte della puntata voi telespettatori potrete rivolgere domande ed osservazioni direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fano TV allo 0721 861433 dalle 20.45 in poi dopo il Tg. Occhio alla notizia.